Ciao, io sono Giovanni, l'autore di Everyone Must Die e questo tutorial potrà esserti utile per capire come funzionano le meccaniche basilari di questo gioco. Una partita di Everyone Must Die inizia con la creazione del cast. In questa partita di prova giocheremo in tre giocatori e vengono creati quindi, secondo il regolamento, nove personaggi del cast. Potete creare il personaggio del cast liberamente oppure generarlo grazie agli spunti che trovate all'interno del manuale. Vi sarà sufficiente un lanciadati che permetta di lanciare un diventi o un diventi fisico per generarli. Everyone Must Die suddivide il gioco in scene. Ogni scena è fatta di tre parti. C'è una parte introduttiva, una parte di Everyone Must Die o Entra la Morte e poi c'è la parte dell'epilogo. Le prime tre scene che il cast di questo gioco andranno ad affrontare sono considerabili ancora di setup. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di permettere a tutti i giocatori seduti al tavolo di poter velocemente apprendere le meccaniche di questo gioco. Per poter poi giocare con personaggi ormai più sviluppati le scene successive, quelle che vi avvicineranno sempre di più all'epilogo di questa storia. Andiamo quindi a creare la prima scena. La prima scena deve essere l'inaugurazione o una festa o un motivo per cui questi quattro personaggi, i primi quattro personaggi del cast, si incontreranno in modo casuale. Il funzionamento è molto semplice, si sceglie tutti insieme e ad esempio in questo caso scegliamo che sia la classica festa di Halloween. A questo punto io che sono il giocatore numero uno, cioè quello che ha scoperto questo gioco, andrò a scegliere il mio primo personaggio dal cast. Una volta che ho scelto il mio primo personaggio dal cast, ne prenderò immediatamente un altro che andrò a segnare al giocatore seduto alla mia destra, che in questo caso è Valentina, che è il giocatore 2. Il personaggio che ho scelto per me è Ludovico Jimenez, mentre il personaggio che ho scelto per Valentina è Francesco Brown. Chiaramente racconterò come vedo noto all'interno della festa Francesco Brown, questo giornalista. Il giornalista a sua volta mi noterà e nel notarmi il giocatore che praticamente interpreterà Francesco Brown lo descrive, quindi magari ci dice come si è travestito. E una volta che ci ha spiegato come si è travestito, andrà a dire se e come è legato con Ludovico Jimenez, come ci conosciamo. E lui dice che questo Ludovico lo vuole rovinare. Perché lo vuole rovinare? Perché lo accusa di aver creato degli articoli nei confronti della sua persona, che è comunque un presentatore della vendita, quindi un personaggio pubblico, e di aver fatto qualcosa. Quindi andrò a segnare il nome Ludovico e scriverò Ludovico mi vuole rovinare. Chiaramente scriverò questa indicazione sul foglietto. A questo punto, ovviamente, ripassa immediatamente la palla a me, che interpreto a Ludovico. E quindi cosa faccio? Anche Ludovico andrà a dire la sua. E quello che andrà a dire è che questo giornalista ha messo in giro dalle fake news e suoi confronti. Questo, diciamo, è già una base per poter chiacchierare un po' quando ci incontreremo. Ma ovviamente non finisce così, perché anche il nostro giornalista noterà qualcuno nella festa. Quindi che succede? Chi vede il personaggio interpretato da Valentina vede un altro personaggio, che è quello di Roberto, che verrà assegnato a Roberto, ed è Harry Mancini. Quindi cosa succede? Prendiamo le due carte e le posizioniamo sul tavolo. Ancora una volta, Harry dovrà dire come è mascherato e dopodiché dirà in che modo è legato con Francesco. E poi Francesco, a sua volta, dovrà dire come è legato con Harry. A questo punto tocca a Roberto. Noi stiamo giocando in tre giocatori e quindi lui introdurrà comunque un altro personaggio nella festa, che in questo caso è il personaggio di Ginevra. Ma questo personaggio di Ginevra sarà una sorta di osservatore, qualcuno che guarderà quello che succede in scena. E il legame che va creato lo dovrà creare soltanto Harry nei confronti di Ginevra. Finita questa fase, che ormai avete capito come funziona, che cosa succede? I giocatori inizieranno a parlare in prima persona dall'interno dei loro personaggi e inizieranno a chiacchierare delle cose che hanno definito grazie ai legami. Quando tutti i giocatori avranno avuto una scena con il loro personaggio all'interno di questa situazione, ecco che praticamente questa parte introduttiva si esaurisce. Quando si esaurisce, qualsiasi giocatore può dire la frase rituale che tutti devono morire. Tutti quanti ripetono questa frase e in quel momento ovviamente entrerà in gioco la morte. La morte viene assegnata al primo giocatore, almeno per questo esempio faremo in questo modo. E adesso vedremo che cosa significa. Il giocatore che praticamente interpreta la morte, oltre il suo personaggio, avrà appunto questo ruolo. Ma il ruolo della morte è molto semplice. Quello che deve fare è pescare una carta dal mazzo della morte. Il mazzo della morte è una sorta di contatore. Quando vedrete le carte finire, tutti i personaggi saranno morti. Ok? Quindi è una sorta di contatore di tempo che piano piano andrà ad esauristi. E come fa a giocare la morte? La morte pesca una carta dal mazzo della morte e la gira. Una volta che è girata deve vedere il numero che è rappresentato sulla carta. Nel nostro esempio vediamo che appunto è un 2. Andiamo quindi nella parte del manuale a pagina 49, dove andiamo a vedere queste indicazioni e vediamo che se esce una carta sul quale c'è scritto 2 o 6, allora cosa deve fare la morte? Deve scartare quella carta e quindi la mette immediatamente nel mazzo degli scarti. Successivamente inizierà a estrarre carte dal mazzo fino a quando non riesce a trovare un 9, un 10, un J, un Q o un K. o un asso. Questa è diciamo la procedura che adesso vedremo qui realizzata. Andiamo quindi a vedere che cosa significa il 10. Sempre a pagina 48 ci vengono date le istruzioni. Se in questa scena morisse un personaggio, il giocatore a cui sarà morto il personaggio sceglierà un altro personaggio che morirà con lui. Anche chi che si sia precedentemente salvato. Bella crudele questa cosa. In più cambia l'ordine dei turni da destra verso sinistra. Quindi se normalmente praticamente si andava da sinistra verso destra, adesso si andava da destra verso sinistra. Quindi il primo giocatore a iniziare sarà Roberto, che è quello ovviamente che inizierà il primo turno. A questo punto possiamo anche ricevere degli spunti. Ora gli spunti non sono obbligatori da essere utilizzati, sono un modo per evitare di finire in pagina bianca. Quindi che succede? Si va a vedere il segno della carta. In questo caso la carta è cuori e quindi essendo cuori ci dice che cosa potrebbe essere. Di base lo spunto è al momento giusto nel posto sbagliato. Quindi che ne so, finite nel mezzo di una rissa, finite nel mezzo di una manifestazione, finite nel mezzo di una fight data gang, venite scambiati per membri di quella banga, finite in una sparatoria. Quindi queste sono delle motivazioni tipo che potrete utilizzare per la vostra scena, ma chiaramente dipenderà da quello che avete introdotto. In questo caso magari i nostri personaggi si erano spostati fuori dalla festa per fumarsi una sigaretta e proprio in quel momento, guarda caso, vengono scambiati per dei membri di una gang, quindi finiscono per uno scambio di persone in una sparatoria. E chiaramente a questo punto che cosa succede? Tutti quanti i giocatori ricevono una carta dal mazzo della morte. Come funziona? Il primo giocatore abbiamo detto che è Roberto, Roberto ha ricevuto un 4 di cuori. Il suo personaggio è morto. Perché è morto? Perché praticamente ha una carta di valore inferiore a quella giocata dalla morte. Se fosse stata superiore avrebbe potuto raccontare come si è salvato. Questo è il funzionamento base delle meccaniche. La scala è ASSO KQJ e poi ovviamente tutti gli altri numeri. E mentre i colori, quindi se dovessero uscire 2,10, quindi valore 10 ma con simbolo diverso, come funziona? È molto facile. Come quando fuori piove a catinelle. Facilissimo. Quindi ricordatevi questa frase, che poi trovate anche nel manuale, e vi ricorderete anche chi vince contro chi. Roberto quindi gioca la sua carta e sarebbe in teoria morta, ma avendo un legame positivo con Harry, Harry decide di utilizzare la sua carta che ha in mano, che è un Jack, in suo aiuto. Perché la regola permette proprio di fare questo. Se avete un legame positivo con un altro personaggio che è presente in scena, potete intervenire dando la vostra carta in aiuto a quella dell'altro personaggio. E che cosa succede? Che facendo questo gesto, si salva diciamo la persona che sarebbe dovuta morire, ma vi mettete in salvo anche voi. E non è un gesto troppo buono. Perché cosa succede? Che state lasciando uno dei personaggi da soli a doversela cavare con la morte. E potrebbe morire. E in effetti in questo modo i due personaggi si sono salvati. Ed è rimasto soltanto il personaggio di Giovanni. Il personaggio di Giovanni che ha una carta di numero inferiore a quella della morte e quindi il suo personaggio inesorabilmente muore. Ma facciamo attenzione. Beh, in effetti in questa scena che cosa succede? Che quando un personaggio muore, se ne può portare dietro un altro. Anche di quelli che si erano precedentemente salvati. Ed è evidente che il personaggio di Valentina, che è Francesco, è quello che praticamente l'ha fatto morire. Quindi il nostro, diciamo, personaggio, il personaggio interpretato da me, Giovanni, cosa fa? Si trascina nella morte, quindi magari afferra all'ultimo secondo il braccio di Francesco, non mi ricordo più il nome, di Francesco. E una volta che l'ha afferrato, il braccio di Francesco, lo fa finire crivellato dai colpi della gang. E entrambi i personaggi sono morti. Ed eccoci arrivato l'epicolo. E nell'epicolo che cosa succede? Beh, intanto non ci dobbiamo scordare che c'era un personaggio che ha osservato la scena, che era quello di Ginevra Viola. Ma prima di passare a lei, parliamo del personaggio Henry che si è salvato. Allora, quando un personaggio si salva, ottiene un gettone del destino, ottiene di segnare una crocetta sulla barra delle scene in cui è sopravvissuto, in questo caso è uno. E in più, nel suo caso specifico, ottiene di ripagare un dollaro di debito con la morte. Chiaramente l'ha fatto in modo inconsapevole, ma quando è scappato insieme al suo amico, che cosa ha fatto? Ha praticamente lasciato morire uno dei personaggi. Ok? Nel fare questa cosa, sostanzialmente, sta già iniziando a ripagare il suo debito con la morte. E quindi segnerà questo segnalino sul primo dollaro, diciamo, sul debito della morte. A questo punto, ovviamente, anche il personaggio di Ginevra rearegirà. Come regirà? Regirà creando un legame negativo proprio col personaggio di Henry. Perché andrà a creare un legame negativo col personaggio di Henry? Beh, ha visto tutto quello che è successo, compreso il fatto che stavano cercando di far morire uno dei personaggi presenti nella scena. E il nostro cast di personaggi si è già sottigliato. In questo momento rimangono sette personaggi. E a inizio la seconda scena. In questa seconda scena dovrà essere presente solo un personaggio che è sopravvissuto alle scene precedenti. Quindi dovremmo scegliere fra Ginevra e il personaggio di Francesco. E gli altri personaggi, invece, devono essere nuovi, presi dal cast. In questa scena si potrebbe andare al funerale delle persone morte. Si potrebbe giocare una scena in cui si va magari a parlare con i propri amici di quello che è successo. Magari questi sono degli amici, dei conoscenti con i quali vi incontrate. E quindi inizierete sostanzialmente a socializzare anche con gli altri membri di questo gruppo. Gruppo di persone che non per forza si conoscono tutte quante. Ma in ogni caso potremmo parlare di questo funerale in cui magari sono presenti più di persone. E in questo funerale ci saranno anche i personaggi scelti dal gruppo. Si passa lo scettro della morte al secondo giocatore. Quindi si cambierà chi farà il ruolo della morte. E poi ovviamente inizierà a scegliere il personaggio, il primo giocatore alla destra della morte. Poi il successivo, fino a quando anche la morte non avrà il suo. Questi personaggi che sono entrati adesso non hanno legami tra loro. Però l'unico personaggio che era già presente in scena può già dire di conoscere qualcuno di loro. E in questo caso è il personaggio di Roberto. Che creerà un legame con Alessandra negativo per qualche motivo. Adesso avete capito come funziona. Non vi farò più la parte narrativa. Cercherò di farvi capire le meccaniche. Di solito i legami si creano nella fase introduttiva e nella fase finale, quella di epilogo. Quindi poi anche questi personaggi, se riuscissero a sopravvivere, potranno a loro volta creare legami, stringere legami con gli altri sopravvissuti. Giocate il funerale. Quindi fate in modo che racconterete quello che succede all'interno del funerale. Il giocatore che interpreta la morte è quello che introduce la scena, di solito. E poi andrete a raccontare le vostre interazioni tra voi, quando vi vedete in questo momento bruttissimo e triste. Quando praticamente avete esaurito gli argomenti di cui state parlando, o qualcuno se ne accorge, oppure la morte proprio in qualsiasi momento lo può fare, può dire tutti devono morire, tutti i giocatori ripeteranno, tutti devono morire, la scena si interrompe in quel momento e si parte alla fase di entra la morte. È una fase sempre in cui i personaggi si allontanano, comunque introducono una nuova scena iniziale, un cappello iniziale, e poi si vedranno gli effetti della morte come abbiamo ormai imparato. La morte quindi estrae la carta, va sempre a controllare nel manuale prima il numero, che danno le regole particolari per la scena, e successivamente andrà a vedere il segno, così come vediamo nelle prossime immagini. Il primo giocatore è Roberto, e quindi interpreta proprio il personaggio che è sopravvissuto, in questo caso gli è capitata una carta molto bassa, un 2 di cuori. Sarebbe morto, ma attenzione, decide di utilizzare un gettone. Il gettone può essere utilizzato per tanti modi, ma uno in particolare vi permette di prendere un personaggio che non ha legami, quindi in questo caso ce ne sono due, e di farlo morire al posto suostro. Cioè nel senso che proprio la scena che è stata introdotta con Pic, voi prendete questo personaggio e lo utilizzate ad esempio come scudo per salvarvi. Ovviamente questo personaggio che state interpretando sta iniziando ad uscire di testa, ma è proprio bello il gioco, perché a volte usciranno questi personaggi, come li definisco io, serial killer. E' evidente che questo è un esempio, e che il gioco non sempre permette di fare tutte queste azioni una dietro l'altro, ma a me interessava permettervi di farvele vedere, perché sono delle particolarità di Everyone Must Die. In effetti Roberto fa questa scelta e fa morire il personaggio di Giovanni, personaggio che ha avuto a malapere il tempo solo di presentarsi. Chiaramente inizia a essere un po' strano adesso per tutti i personaggi quello che sta succedendo, perché è la seconda coincidenza che capita in breve tempo. Non è strana questa cosa? Si va quindi a giocare, diciamo, l'epilogo, immaginate che casino all'interno del funerale, e ancora una volta il personaggio che è assistito in questo caso e che era presente nella scena, che è quello di Jonas, di James, scusate, di James Taylor. Questo James Taylor cosa ha fatto? Ha visto quello che è successo, ha visto ovviamente il comportamento da folle di Henry, e ovviamente crea un legame negativo con lui. Anche ovviamente Henry crea un legame negativo con l'altro personaggio, perché l'ha visto fare questa cosa scorretta. Ed ecco che vedete che si sta creando un circolo vizioso. In più cosa è successo? Chi è sopravvissuto ovviamente riprende un gettone, e lo riprende ovviamente anche il nostro Henry, in più prende un ulteriore dollaro perché ha fatto morire un'altra persona nei suoi confronti, e in più si sposta di uno avanti, diciamo, si mette una crocetta aggiuntiva sulla barra. Quindi il personaggio di James Taylor è sopravvissuto alla scena, mentre il nostro Henry è sopravvissuto già a due scene. Fate attenzione che se il personaggio di Henry dovesse ottenere un altro dollaro, in qualche modo, vi assicuro che non è così facile, non come negli esempi, che cosa succede? Succederà che praticamente ha ripagato il suo debito con la morte, e quando lui ripaga il suo debito con la morte, sancirà la morte di tutti gli altri personaggi del cast. Non giocheremo la terza scena, ve lo dico subito, perché? Perché ormai avete capito come funziona, un pochino di meccaniche base ve le ho mostrate, vi ho mostrato alcune particolarità, il resto ovviamente le trovate nel manuale di Everyone Must Die. Però la terza scena è veramente particolare, perché cosa succede? Che se c'è almeno un personaggio che è sopravvissuto in due scene, e in questo caso abbiamo Henry, quel personaggio finalmente capirà che cosa sta succedendo. Si renderà conto che lui ha un debito, lui o comunque tutte le persone che ha incontrato fino adesso, anche quelle che gli erano sconosciute, in realtà non lo erano. Erano persone che in un modo o nell'altro si erano salvate da morte certa. Ora, chiaramente la citazione di Final Destination ci sta, però è molto facile da fare, il caso delle montagne russe, no? Dovevano andare sulle montagne russe, uno di loro ha avuto una visione, ha detto no, per favore non andateci, perché adesso le montagne russe deraglieranno e moriranno tutti. E quindi che cosa è successo? Quelli che gli hanno creduto, appunto i nuovi personaggi del nostro cast, si sono salvati la vita, ma la morte vuole indietro le loro anime. Ed ecco perché sta iniziando ad uccidere tutti quanti, quindi le morte non è casuale. In più tutti gli altri personaggi avranno un sogno, una visione, anche ad occhi aperti, diciamo, in cui la morte gli dirà proprio in modo specifico che hanno un debito con lui, che si sono salvati una volta, ma che adesso è arrivato il momento di morire. E la morte stessa li inviterà ad uccidere altri per avere in cambio la salvezza. Gli chiederà questi tre dollari, queste tre anime, in cambio della salvezza. Crudele. Quindi da questo momento in poi il gioco diventa ancora più cruento, più forte, più acceso, perché le scene saranno sempre più movimentate, i personaggi a volte si uccideranno fra di loro, altre volte cercheranno di salvarsi. E quello che succederà alla fine, ragazzi, è veramente impossibile da prevedere, perché anche il personaggio che vi sembra adesso arrivato, come quello di ieri, che vi sembra essere arrivato alla fine, che ormai manca pochissimo per riuscire a sgominare la morte, in questa scena ci saranno tutti i personaggi che sono sopravvissuti. Che cosa succede? Che utilizzando i gettoni e chiaramente anche per motivi di carte che vi usciranno nella mano, magari non riuscirà a far morire qualcuno al posto suo, come è successo nelle altre scene. E chiaramente questo lo porterà in svantaggio. Svantaggio perché? Perché gli altri hanno già visto il suo comportamento, e quindi hanno visto già il comportamento che fa morire gli altri, e quindi anche gli altri vorranno ucciderlo. E chiaramente un pochino vi ucciderete fra di voi, un pochino sarà la morte, poi dipenderà proprio dalla storia come viene fuori, perché a volte si cercherà di sopravviere tutti insieme fino alla fine, anche se è inesorabile che la morte prima o poi cercherà di falciare tutti. Avete capito che ci sono gli effetti delle carte, sono diversi, ci sono delle scene in cui la morte si accontente di ammazzare una sola persona, poi ci sono quelle in cui ti porti dietro qualcuno, ci sono quelle in cui ne provo a ammazzare tutte. Quindi c'è comunque una successione di questi tipi di eventi, e se le carte dovessero finire, le carte del mazzo della morte, ecco che ovviamente ci sarebbe la morte di tutti. Poi il gioco ha una miriade di finali diversi, c'è la possibilità che ci sia questo personaggio che riesce a ripagare il debito e quindi condanna a morte tutti quanti, quindi poi racconterà la morte di tutti gli altri personaggi del cast. C'è la possibilità che uno dei personaggi riesca a sopravvivere più degli altri e in un momento specifico del gioco si riveli essere l'angelo della morte. C'è la possibilità che la morte ammazzi tutto, per tutti in vari modi, non solo quando finisce il mazzo delle carte, ma anche magari con l'uscita di una carta di quelle che prevede che fino a quando non muore qualcuno, o non muoiono tot personaggi, la morte non si ferma. E poi, quando il gioco sta per concludere, c'è proprio la cosiddetta fase del massacro, cioè una fase in cui praticamente il gioco accelera in modo veloce e sono quei momenti in cui il numero di carte presenti nel mazzo è inferiore al numero di giocatori. Quando succede questa cosa, il gioco dà proprio un'ultima sferzata di forza in cui la morte accelera e darà, diciamo, il colpo di grazia al gruppo. Lo so, è un gioco che parla di morte, è un gioco che parla di tragedie da questo punto di vista, ma può essere giocato in svariati toni. Lo potete giocare più allegorico, lo potete giocare più horror, e questo può dipendere da voi. Sicuramente è un gioco che può essere giocato veramente da tutti, perché ha meccaniche molto semplici, e rispetto al suo, diciamo, antenato che è Final Gear, ha molta più profondità. Le meccaniche sono molto più profonde, vedrete che ci sono delle meccaniche che spingono proprio alcune reazioni, e in più, avrete già notato che si parla di personaggi, non si parla dei giocatori. In Final Gear, alcune delle meccaniche che sono rimaste simili, erano utilizzate da giocatore a giocatore. Cioè io facevo la bastardata al giocatore che avevo la destra, quello sulla destra lo faceva a quello sulla sinistra, e così andavamo avanti durante il gioco, facendo morire poi i personaggi. In questo caso no, tutti i personaggi hanno una motivazione importante per cui non vogliono morire, e questo li legherà fortissimi al gioco, e li spingerà anche a fare delle follie, come abbiamo visto fare ad Harry. Io vi lascio, vi ricordo che Everyone Must Die, per chi lo stesse scoprendo in questo momento, si trova su Amazon, e che potete ovviamente chiedermi una demo se volete provarlo. Ciao a tutti! Die, 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 die. Ciao a tutti!